Signori Brota, ci hanno detto che la vostra presenza è importante qui perché conferisce valore a questa manifestazione, è vero? Voi vi sentite in questa festa? Io mi sento in questa festa, pensando che questa battita è un piacere e un onore, perché questo territorio, pur non essendo in queste parti, che sono un po' sicurino dopo, ma lo sento anche io, anni fa, sono arrivato qui, soccorso dell'amata nostra gioia di Tampia e ho dato il là al calcio professionista, per poi arrivare ai tempi dolci e la vediamo di nuovo crescere, vibrare. Diciamo che devo dire che la ticoseria di Tampia è sì una ticoseria di quelle faccinerose che assurse, però rispetta il risultato, rispetta i ruoli, è una paristana che si fa, dico, come faccio, ho paura perché furi la vista di magari succedere un po' di caos, però all'interno riescono a conferirli una civiltà, una legalità, una situazione di pulizia veramente di grandezza. Assolutamente sì, ho avuto sempre un bel lavoro, posso dire che hanno anche ragione come la storia, posso garantire che all'interno di questi gruppi organizzati sono persone che lo fanno con una passione incredibile cercando di limitare il fascimento. ed è una cosa bellissima, riescono a mantenere il fascimento e purtroppo bisogna convivere, no, però è importante che poi tutto spose nel desiderio di vedere vincere la propria squadra e quindi su territori che hanno delle particolarità, l'essere organizzati come tiposerie è qualcosa che aiuta un po', aiutano un po'. Vedo che anche i campioni vanno alla ricerca di quell'applauso, come un attore un po' con qualche c'è, e si metti su rubri, un guadra, e anche loro, quindi un applauso soprattutto alla storia scampiese, e mi sta a cuore che dico alla fine sempre forza in quest'anno. Auguri e complimenti, a tutti i nostri, saluti.